Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà protagonista sul Mediterraneo centrale quest'area di bassa pressione con una perturbazione associata che porterà condizioni di molta variabilità al sud. Invece il centro nord avrà condizioni meteo discrete anche se con atmosfera sempre un pochino instabile. Controlliamo intanto la nuvolosità sull'Italia, in realtà come vedete le nuvole arriveranno a interessare gran parte del paese soprattutto il centro-sud, però le nuove più compatte nelle regioni meridionali mentre nel centro Italia non mancheranno anche delle parziali schiarite ancora di più al nord. Precipitazioni tenderanno a concentrarsi al sud ma non prevediamo fenomeni particolarmente intensi e insistenti sono brevi scrossi di pioggia che però appunto potrebbero interessare un po' tutte le regioni meridionali quindi in definitiva ci attende un sabato discreto al centro nord con ampia zona di sereno se diciamo qualche nuvola torna ad affacciarsi sull'Italia centrale ma senza conseguenze. Al sud a tempo molto variabile, come vedete abbiamo indicato anche delle parziali schiarite perché ci saranno in giornata però qualche piovasco sarà possibile in Sardegna tra la Basilicata e la Puglia anche nel Salernitane e sull'Alta Calabria fenomeni comunque per lo più isolati. Temperature ancora contenute ma piano piano cominciamo a guadagnare qualche grado. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi per l'intero weekend scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.